Avvocato buonasera, è venuto a incontrare il ministro Boschi? Buonasera, non è che vi è caduto quel po'. È venuto a incontrare il ministro Boschi? C'è il ministro Boschi? Mi farebbe piacere incontrarlo. Come sta procedendo il suo tentativo di aggregare la sinistra? Mi sembra bene, stiamo facendo passi avanti giorno dopo giorno. Si sente a casa in una festa del PD? Sempre, da quando avevo vent'anni, sentivo a casa e anche adesso mi sento a casa. Sto cercando proseliti qui? No, assolutamente. Senta, c'è la Boschi, intanto salutarla, salutarla. Sono una persona molto educata e saluto molto volentieri la Bosca. Il dialogo come va con Boschi, Renzi? Antinitola. Grazie. 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 Grazie a testa, grazie, mi sono venuti in quasi a medio sinistra. Grazie. Non sono con il mio diritto. Non abbiamo mai litigato, non abbiamo mai litigato. Abbiamo fatto faccia o no? Non abbiamo mai litigato. Non abbiamo mai litigato? Sicuro? No, assolutamente, siamo sicuri. Siamo sicuri. Vediamo che preparano la sala. La usciamo da là, da là, da là. Sì, adesso la pioggia. Le volevi che le abbiamo per quello? Non abbiamo passato. Per il caso, abbiamo fatto un po' di vicino. Ragazzi, questi qua. E io qua mi vedo. Sì, lo faccio. Ciao, buona sera. No, 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 no. Non? Non, no, 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 no. Fermati, fermati, fermati non venire dietro lì.